Entrare nella cultura di un popolo lontano attraverso la porta della sua cucina. Una ciotola di ramen in questo senso racchiude molta storia del Giappone, benché come nel libro del ramen, edito da Gribaudo, questa zuppa ormai diffusa in tutto il mondo abbia le sue radici in Cina. In questo lavoro, giunto ormai alla seconda edizione, l'autrice Stefania Viti racconta non solo il piatto in sé come ricetta tradizionale, ma come cultura, ne racconta la storia, la geografia, il suo rapporto con la letteratura, il cinema e i manga. Il ramen nasce come elemento importato, soprattutto dopo l'apertura del Giappone, per cui dopo il Sakoku, poi soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, si diffonde principalmente nei porti, per cui nelle Chinatown, quelle che poi sono diventate le Chinatown delle varie città giapponesi. A differenza dell'essenzialità che contraddistingue il sushi, a lungo piatto simbolo della cultura gastronomica giapponese, il ramen non è un piatto per così dire per sottrazione, pur raggiungendo alla fine un risultato ugualmente armonico per il palato. Una zuppa che ti permette di unire tantissimi tipi di ingredienti, dove l'armonia è raggiunta per addizione, per cui sta alla capacità proprio dello chef del ramen saper ottenere l'armonia attraverso l'addizione dei vari ingredienti, che sono però anche gli ingredienti che ci sono a livello locale. In una ciotola fumante di ramen ci sono quattro elementi essenziali, la salsa tare, il brodo, i topping, che possono essere di più svariati, e i noodles, questi spaghetti spessi ed elastici capaci di tenere la cottura pur restando immersi a lungo in un liquido caldo. Michio Yamada, coautrice del libro, racconta il segreto di questa pasta. Per il buon ramen ovviamente la pasta è molto importante, ma è molto più importante invece l'acqua che viene utilizzata per fare la pasta. Questa acqua speciale si chiama kansui e che deve essere di una determinata caratteristica. Molti ristoranti qui in Italia fanno molta fatica a riprodurre questo tipo di acqua, perché mentre in Giappone l'acqua è, diciamo, l'acqua dolce, qui in Italia contiene molto carcio. Oggi il ramen vive un momento di grande diffusione a livello internazionale e non solo come piatto popolare. Ultimamente si è riscoperto, in virtù anche del fatto che, finalmente, anche le grandi guide internazionali l'hanno premiato con la Stella Michelin. Due anni fa il primo ristorante, ristorantino, la prima ramen giapponese, ha tenuto la Stella e qui un po' c'è stato, secondo me, il risveglio, anche a livello internazionale, di questo piatto. Tanto che oggi si dice quasi che the ramen is the new sushi. Anche a Milano il ramen ha conquistato una certa popolarità grazie all'impegno di cuochi come Luca Catalfamo, patron di Casa Ramen e Casa Ramen Super, che nel libro racconta la sua versione di questa zuppa. Per lui una passione prima che un lavoro. Ci sono due visioni che ho sempre io del ramen. Uno dal punto di vista tecnico, che è brodo, noodles, carne e poi qualsiasi tipo di topping uno voglia mettere, in più della creatività. E quindi, diciamo, è la struttura. L'altro, invece, è il mio comfort food per eccellenza, nel senso che è il cibo che, in qualche modo, mi ha cambiato la vita e mi ha fatto conoscere un popolo, una nazione, un piatto che mi rimane nel cuore, mi rimane sempre nel cuore.